Più che alla formazione della squadra di governo, al momento sono impegnato a cercare dirigenti che possano dare una mano alla Calabria. Così il governatore, Roberto Occhiuto, da Milano attraverso i social fa sapere di assegnare in questa fase grande importanza all'apparato dirigente e spiega. In questi giorni tutti mi chiedono degli assessori, dell'aggiunta regionale. Io sono più impegnato invece a trovare i dirigenti, quelli che dovranno aiutarmi, pure non da dirigenti, ad affrontare i problemi, a cercare delle soluzioni. E oggi sono a Milano perché ci sono tanti calabresi straordinari che lavorano in altre amministrazioni, che hanno dimostrato di essere bravi. Alcuni di loro li sto incontrando per chiedergli di venire in Calabria, di dare una mano alla Calabria, a questa nuova squadra di governo, per dimostrare, come dicevo in campagna elettorale, che c'è una Calabria che l'Italia non si aspetta. Una Calabria che non si aspetta nemmeno a Milano. La squadra andrà formata e come sempre occorrerà trovare il giusto equilibrio tra eletti, alleati e territori. E se prima del voto pareva blindata la figura di Nino Spirli quale vicepresidente, oggi il quadro è cambiato. Da un lato il risultato ottenuto dalla Lega, che è vero, conferma quattro consiglieri regionali, ma perde consensi. Dall'altro una sorta di fronda tutta interna al partito calabrese, che secondo i ben informati non sarebbe scontata. E poi il leader Maximo, Matteo Salvini, incontrando i giornalisti a Catanzaro per un'analisi del voto, con eletti e dirigenti del partito, glissa sul ticket annunciato, specificando che ne parlerà con il presidente Occhiuto. Parlerò col presidente Occhiuto, io non sono affezionato alle etichette, ma alla concretezza. Quindi con Occhiuto parlerò del ruolo che uomini e donne della Lega potranno avere sia in giunta che in consiglio. Ripartiamo dai quattro consiglieri regionali, con idee chiare e una bella e proficua chiacchierata. Quindi noi tendiamo a essere più presenti dopo le elezioni che prima delle elezioni nei territori. Grazie.